Hanno accusato nausea e vomito durante il sondellino pomeridiano. Alcuni bambini dell'asilo comunale di Castelvetro si sono sentiti male e otto di loro sono stati portati agli ospedali di Piacenza e Cremona dalle ambulanze per gli accertamenti del caso. Sono stati attimi di grande apprensione, tutte le ambulanze della zona sono state convogliate davanti all'asilo. Altri bambini si sarebbero sentiti male a casa e sarebbero stati accompagnati dai genitori al nosocomio. Gli episodi si sono verificati alcune ore dopo il pranzo, non si esclude l'ipotesi di una intossicazione alimentare. Complessivamente alla mensa hanno mangiato 74 bambini tra nido e materna. Sul posto oltre a 5 ambulanze sono arrivati anche gli operatori dell'igiene pubblica dell'ASL e i carabinieri. Presenti anche il sindaco di Castelvetro Luca Quintavalla e l'assessore all'istruzione Chiara Bruni.